Famiglia Cristiana sul suo sito pubblica un articolo con un titolo Benigni, soldi e bespesi. Io faccio i miei complimenti a Famiglia Cristiana che è un giornale che dovrebbe stare dalla parte degli ultimi, non dovrebbe innalzare una spesa della RAE assurda, folle, 4 milioni di euro solo perché è Benigni e perché ha divulgato i 10 comandamenti, quindi viva la RAE, viva Benigni e viva i soldi e bespesi. Io credo che di fronte a una crisi del genere economica sono assurde determinate cifre. Quindi Famiglia Cristiana, per cortesia, parla di altro, parla di chi quotidianamente veramente si presta per gli altri, non parlare di cose che... Guarda, basta, basta, non ha senso una cosa del genere. Quindi, per cortesia Famiglia Cristiana, parla di altro. Ciao.